Ben ritrovati con l'informazione live di UD News TV, l'appuntamento con l'informazione che stavolta si apre con un primo collegamento in diretta assieme alla nostra Francesca Santoro. In precedenza l'avevamo lasciata alla Fondazione Friuli per la presentazione dei bandi dedicati al settore del welfare, ora si è trasferita al palazzo della regione di via Sabadini perché si parla di ludopatia, un fenomeno da tempo sotto la lente dell'amministrazione pubblica, della politica in Friuli Venezia Giulia perché ci sono dati allarmanti. Francesca in compagnia del suo ospite, a te la linea raccontaci su che cosa si concentrerà al tavolo di oggi. Esatto Davide, siamo in regione a parlare di ludopatia, con me Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità Anci FWG. Cosa fanno i comuni per combattere la ludopatia? A volte si ha l'impressione di voler svuotare il mare con un cucchiaio, tanto sta diventando un problema molto complesso questo della ludopatia, un problema veramente che impegna le comunità locali e su cui i comuni sono impegnati in questi ultimi anni in maniera molto forte. Quali sono gli strumenti che abbiamo? Lo strumento principale sono quelli dei servizi sociali e dell'associazionismo, sono proprio loro il punto di riferimento a cui ci si rivolge. Dove invece non riusciamo a intercettare ci sono le zone d'ombra, le zone grigie, le criticità. E allora il grosso lavoro che stanno facendo tutte le amministrazioni comunali, la maggior parte sicuramente lo sta facendo, è quello di andare a stanare le zone d'ombra. Per uscire a fare lo scoperto quelle persone che per pudore, per vergogna, per difficoltà personali non vogliono far sapere di questa loro criticità. Questa è una situazione che ci impegna molto, che impegna i comuni, che impegna i servizi sociali, che impegna le aziende sanitarie. Si stima che siano più o meno 6.000 almeno le persone in regione interessate da questo problema, soltanto 570 però sono intercettate dai vari servizi per le dipendenze delle aziende sanitarie della regione. Cosa potete fare? Quali strumenti avete in mano per stanare queste persone che, come dice lei, per vergogna, per pudore non vogliono far sapere del loro problema? Il nodo principale è il rapporto familiare, cioè le famiglie, le persone che conoscono queste difficoltà, le persone che meglio di altri conoscono le abitudini e i cambiamenti radicali di abitudini, gli stili di vita di queste persone. Quindi i familiari. Poi le persone, gli amici, i conoscenti, coloro che vedono cambiare radicalmente i comportamenti di queste persone. Bisogna, come dire, a costo di sembrare brutali, bisogna però cercare di intercettare queste persone perché più noi riusciamo a farle uscire fuori, più c'è una speranza concreta che queste persone possono essere avviate a un recupero. Quindi, come dire, il silenzio, far finta di non vedere, spesso è una complicanza, non solo per il diretto interessato, ma ovviamente per il contesto familiare, perché dietro ognuno di loro ci sono intere famiglie che poi vanno in crisi. Tanti giovani, anche ragazzi delle scuole, che giocano alle slot, giocano online? Ebbè, è difficile controllare, per esempio, il fenomeno dell'online. Mentre i comuni stanno facendo una loro grande sforzi per quanto riguarda, come dire, le strutture, le sale giochi, diventa sempre più difficile il controllo online perché è evidente che, come dire, è una platea enorme e su questi giovani, che sono quelli che smanettono di più e meglio, probabilmente sono quelli che rischiano di finire per primi in questo tipo di, come dire, di situazioni difficili che nascondono anche spesso la loro famiglia e per cui anche lì è importante il monitoraggio dei genitori, dei fratelli, delle sorelle, che si accorgono dei cambiamenti di comportamento. Grazie a Giuseppe Napoli, a te David. Santoro per questo collegamento in diretta, per fare il punto sul fenomeno delle ludopatie in Afriuli Venezia Giulia, ne riparleremo naturalmente, dandovi conto anche dell'esito di questo incontro. Ora apriamo la pagina di Cronaca, oggi ricca di tante notizie. Partiamo dall'inchiesta sul caro estinto, su questo racket, un cartello di onoranze funebri con una indagine che è partita dai carabinieri di Bologna. Tante le misure adottate si è conclusa poco fa la conferenza stampa, i carabinieri hanno smantellato due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano infatti le camere mortuarie dei principali ospedali bolognesi, riuscendo in pratica ad avere il monopolio nell'aggiudicazione dei servizi funebri. Sono 30 le misure cautelari, 9 in carcere, 18 ai domiciliari, 3 divieti di esercizio e di attività d'impresa e 43 le perquisizioni, eseguite da 300 militari che hanno sequestrato un patrimonio di ben 13 milioni di euro, perquisizioni che hanno interessato anche la provincia di Gorizia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di disarticolare questa vera e propria associazione a delinquere, finalizzata alla corruzione al riciclaggio. I due cartelli, come accertato dagli investigatori, si spartivano i servizi nelle camere mortuarie dell'ospedale maggiore del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Di sotto dei boss che avevano creato questo cartello agivano tutta una serie di soggetti, amministratori e dipendenti delle aziende di pompe funebri, che bazzicavano negli ambienti ospedalieri tenendo saldi, rapporti con infermieri e dipendenti delle sale mortuari. Denaro poi nero che era gestito dai contabili delle aziende di pompe funebri attraverso un conto corrente sul quale nel giro di pochi mesi, secondo quanto accertato, sarebbero transitate centinaia di migliaia di euro. Stamattina i militari dell'arma hanno sequestrato sei diverse società e poi cinque immobili, 35 sedi societari e 75 veicoli per un complessivo valore di ben 13 milioni di euro. Torniamo in Friuli Venezia Giulia con la retata portata a termine stamattina da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza al Terminal Studenti di Via della Faula a Udine. Noi eravamo live, vi abbiamo raccontato durante la rassegna stampa questa operazione che ha portato a diversi sequestri. Ci riassume tutto Francesca Sant'Orsola nel prossimo servizio. Studenti osservati speciali stamattina nel Terminal delle Corriere di Via della Faula. Polizie e guardie di finanza hanno eseguito un'operazione congiunta per contrastare lo spaccio di droga, controllando i ragazzi che soffriscono appunto dei pullman per raggiungere Udine e andare a scuola. Fondamentale il supporto del pastore tedesco Sindhi delle fiamme gialle di San Giorgio di Nogaro, il cui fiuto ha permesso di individuare alcune bustine di marijuana nascoste tra i sedili delle Corriere e un ovetto di plastica contenente hashish. Al loro arrivo di prima mattina al Terminal, gli studenti hanno così trovato poliziotti finanzieri che si sono posizionati davanti alle porte d'ingresso delle Corriere. I ragazzi sono stati fatti scendere in fila indiana, in modo da passarli in esame uno per uno. Poi gli agenti sono saliti sui vari automezzi, passando a setaccio gli spazi interni per verificare l'eventuale presenza di involucri nascosti. La retata rientra tra le azioni che la questura di Udine ha intrapreso per contrastare lo spaccio di stupefacenti, che nel 2018 ha registrato a Udine Provincia un incremento anche tra i più giovani. Sempre a proposito di contrasto allo spaccio, i carabinieri della stazione di Udine Est hanno tratto in arresto un 26enne del posto, il quale a seguito di una perquisizione personale domiciliare è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish, due bilancini di precisione, una pistola elettrica tipo taser illegalmente detenuta, la somma di circa 300 euro ritenuta a provento dello spaccio. Quanto rivenuto è stato posto sotto sequestro, il soggetto è stato associato alla casa circondariale di Udine per i reati in titolo. Il questore di Pordenone invece, Marco Odorisio, ha disposto alla sospensione della licenza e della conseguente chiusura per due mesi di una pizzeria della città. Si tratta del locale nel quale martedì notte erano state arrestate due persone per l'ipotesi di reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore ha anche inviato una nota al comune di Pordenone con la quale evidenzia tutti gli aspetti negativi riscontrati al fine dell'adozione di un provvedimento di revoca della licenza nei confronti del titolare. La chiusura del locale, informa la questura, si è resa necessaria in quanto base logistica per lo stoccaggio e la lavorazione, il confezionamento e perfino il consumo di sostanze stupefacenti, ma anche perché si sono evidenziati i rischi per la salute pubblica e siano state rinvenute tracce di droga sul bancone vicino al forno dove vengono confezionate le pizze. Il blitz della polizia era scattato nella notte tra martedì e ieri e aveva portato l'arresto di un 27enne cittadino albanese residente a Pordenone trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 34 grammi di cocaina ed è la somma in contanti di 510 euro. In carcere, assieme a lui, è finito il titolare del pubblico esercizio, si tratta di un uomo di 25 anni di Pordenone che è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. C'è poi tutto il fenomeno delle droghe cosiddette legali, la cannabis light, un fenomeno che in Italia e anche nella nostra regione è in aumento perché nel 2018 sono cresciuti nel paese del 75% rispetto al 2017 questi locali che vendono legalmente la cannabis light, superando complessivamente nel paese quota 700. La nostra Monica Nardini ha fatto il punto della situazione. In crescita in Italia i negozi del cosiddetto cannabisiness, anche in Friuli Venezia Giulia. Stando al censimento realizzato da Magica Italia, la guida della rivista Dolce Vita dedicata al mondo della cannabis, i grow shop, ossia i negozi, come spiegato, specializzati in articoli e attrezzature per la coltivazione e il giardinaggio con un occhio di riguardo al mondo della canapa, sono almeno 713, 305 in più rispetto al 2017, un incremento equivalente al 75%. I negozi censiti in regione risultano saliti da 4 a 5 per un nuovo esercizio aperto nel 2018 in provincia di Gorizia che si aggiunge ai due rilevati precedentemente in quella di Trieste e ai due negozi censiti nel 2017 in quelle di Pordenone e Udine. L'edizione 2019 della guida ha monitorato tutti gli esercizi del cannabisiness legalmente riconosciuti nelle 20 regioni italiane e negli oltre 100 capoluoghi di provincia. Rispetto ai prodotti più richiesti e venduti lo scorso anno nel paese, al primo posto figura la Cannabis Light, al secondo i semi di cannabis commercializzati per il collezionismo e al terzo gli articoli per la coltivazione e il giardinaggio, dalle lampade ai fertilizzanti, dalle serre domestiche ai manuali. Negli ultimi anni, come fatto presente in una nota riguardante la guida Magica Italia, il mercato si è strutturato in tre diverse forme, il negozio singolo di proprietà, le realtà che si sono sviluppate creando un franchising e i distributori che si occupano di rifornire anche i negozi. Stando all'ultima edizione del rapporto internazionale European Cannabis Report, entro il 2028 il valore del mercato europeo legale della cannabis dovrebbe superare i 115 miliardi di euro. Ancora notizie di cronaca, i carabinieri del nucleo investigativo hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione messo dalla procura di Udine nei confronti di un 45enne residente nella bassa frulana. L'uomo è stato tratto in arresto e portato in carcere a Udine, dove dovrà scontare la pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati contro patrimonio. I carabinieri della stazione di Udine hanno deferito invece in stato di libertà un 24enne cittadino marocchino residente nella provincia frulana, il quale in palese stato di ebrezza alcolica avrebbe minacciato e oltraggiato il gestore di un esercizio pubblico. L'uomo era già stato sottoposto alla misura del divieto di ritorno in quel comune per tre anni. Infine, i carabinieri della stazione di Mortegliano hanno deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione in debito-utilizzo di carte di debito un 25enne della zona. Il giovane avrebbe effettuato un prelievo banco ma non autorizzato di 100 euro utilizzando la carta di debito del fratello. Ci spostiamo ora a Palmanova dove gli agenti della Polstrada hanno sequestrato una serie di cuccioli di cane per violazioni sanitarie nel trasporto di animali da parte del conducente del mezzo. È stato fermato questo tir con targa italiana lungo l'autostrada A4 tra Gonarse e Porpetto scoprendo proprio che il conducente stava trasportando questi cani in condizioni ingieniche precarie. Sono stati affidati temporaneamente a delle strutture e è stata combinata una sanzione amministrativa al conducente. Infine, diversi gli incidenti stradali dall'alba di oggi sino alla mattinata. Il primo è accaduto attorno alle ore 6 con una fuoriuscita autonoma a Castions delle Mura in comune di Bagnare Arsa coinvolto un neopatentato a bordo di un Audi. I due coetanei con lui che viaggiavano sull'auto anche loro hanno subito diverse ferite tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Palmanova dal personale del 118 rilievi dei carabinieri. Vigili del fuoco in azione alle 7.30 per un altro incidente a Cisterna di Coseano lungo la strada regionale 464 che collega Spilimbergo a Udine e poi ancora altro scontro frontale lungo la strada che porta dalla zona industriale udinesa a Pavia di Udine con Code e la strada bloccata. Vigili del fuoco in azione pure per un tamponamento in comune di Tavagnacco e un'auto in fiamme in tangenziale all'altezza dello svincolo per Martignacco in direzione nord. Altre notizie legate alle forze dell'ordine alla polizia locale della Uti Carnia in particolare che diventa sempre più strutturata nei mesi scorsi. Sono stati assunti tre nuovi vigili che si aggiungono ai 17 già presenti in organico per un totale di 20 unità. Un buon risultato considerato l'obiettivo di ottenere un corpo di polizia adeguato alla vastità del territorio dell'Unione spiegano in una nota i componenti dell'Uti e alla specificità delle funzioni esercitate che consentono di garantire ai cittadini con costanza, efficacia, maggiore sicurezza sul territorio. Rimaniamo in montagna in attesa dell'arrivo della neve si fa un primo bilancio delle festività natalizie con gli albergatori soddisfatti per l'affluenza dei turisti come spiega Paola Schneider presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. Le feste sono andate bene ha detto gli alberghi delle stazioni turistiche hanno lavorato a buon ritmo sino al 6 gennaio con una copertura dei posti letto sino all'80% il periodo di soggiorno ormai si attesta sui 4-5 giorni sottolinea la presidente e confidiamo davvero in nevicate abbondanti che possano scongiurare il rischio di disdette in ogni caso fino a marzo tutti gli hotel delle principali stazioni esciistiche sono pieni mentre quelli delle località minori sono gli ultimi a riempirsi le settimane bianche sono considerate e consolidate soprattutto a Piancavallo sullo Zoncolan a Tarvisio a Forni di sopra i visitatori con cui della Schneider provengono soprattutto dall'est Europa un ultimo flash legato all'università ricordo di un personaggio molto importante nella storia del Friuli Marzio Strassoldo al quale l'Ateneo di Udine intitolerà l'Aula 3 del Polo Economico di Via Tomadini la cerimonia avverrà lunedì 21 gennaio alle ore 12 alla presenza del Rettore De Toni del Sindaco Fontanini e del Vice Presidente del Consiglio Regionale Francesco Russo professore ordinario di Statistica e storico esponente autonomista friulano Strassoldo venne chiamato nel 1987 a coprire la Cattedra di Contabilità Economica Nazionale della Facoltà friulana e poi per lui numerosi incarichi anche a livello politico tra cui la presidenza della loro provincia di Udine ci fermiamo qui per quanto riguarda la cronaca regionale torniamo ora ad aprire la pagina dedicata allo sport andando dal nostro Jacopo Romeo alla sala stampa della Dacia Arena per un resoconto della mattinata di allenamento a porte chiuse dei bianconeri a Te Jacopo Eh sì ben ritrovato Davide ben ritrovati a tutti qui da Dacia Arena dici bene allenamento a porte chiuse che si sta concludendo proprio in questi minuti la seduta si è svolta volge al termine ed è stata una seduta totalmente all'insegna di quelle che saranno le prove tattiche perché ci si avvicina siamo a minu due a due giorni dalla gara importante per la classifica anche perché dopo la sosta è sempre un po' un'incognita la prima partita ufficiale contro il Parma davanti al pubblico della Dacia Arena l'udinese non vuole assolutamente sbagliare la partita allora lavora lavora intensamente mister Davide Nicola lo ha fatto ancora lo ribadiamo a porte chiuse e lo ha fatto concentrandosi sia su quelle che sono le contromosse che l'udinese dovrà mettere in campo ma anche a prendere un focus su quelli che sono i pericoli che il Parma può apportare la squadra avversaria è stata studiata come già è stato fatto ovviamente nelle settimane precedenti ma questa volta è accaduto sfruttando anche il maxischermo di cui vi abbiamo parlato più volte presente sul campo 4 quelle che vedete sono delle immagini che risalgono al riscaldamento che c'è stato prima dell'allenamento e da queste immagini è possibile capire che cosa che il gruppo è tutto al completo eccessivo fatta per giocatori infortunati sono regolarmente rientrati a allenarsi con la squadra Berami e Fofana Fofana ieri aveva anche giocato il secondo tempo con la profagagna ma entrambi all'inizio di questa settimana avevano lavorato con un percorso personalizzato pur non avendo comunque alcun problema fisico saranno dunque auspicabilmente titolari nella gara di sabato così come uno Stefano Caca in condizione sempre in ascesa si candida a giocare contro la sua ex squadra sin dal primo minuto e ieri il ritmo partita era già superiore rispetto a quanto magari si era visto con il Padova non soltanto per due gol messi a segno perché un test contro direttanti lascia il tempo che prova ma tanto quanto per mettere benzina nelle gambe e dunque per affinare le alchimie con un chemo in lasagna che ancora una volta ha trovato due gol nella partita di ieri dovrebbero partire loro ma questo poi come al solito lo vedremo dopo la rifinitura perché mister Tamele Nicola è proprio la sera prima della partita a volte anche riunione tecnica che fa le valutazioni finali ma fatto sta che soprattutto a centrocampo la coperta è un po' corta e dunque di conseguenza anche le scelte in attacco sono bloccate qualora venisse confermato De Polla a giocare nei tre di centrocampo questo per fare un po' il quadro riguardo a tutto quello che accade in casa Udinese nel pomeriggio la squadra riposerà e domani mattina tornerà ad allenarsi per l'ultima volta prima della gara col Parma nella consueta rifinitura sempre alle ore 10.30 e sempre a porte chiuse grazie a Jacopo Romeo torneremo a parlare di Udinese nel consueto appuntamento del TG Sport dalle ore 15 sempre live dal calcio al basket continuano i preparativi in vista della importante trasferta di Imola per l'APU GSA ieri sera nel corso del nostro consueto appuntamento con Basket Tonight curato proprio da Jacopo Romeo ospite d'eccezione il coach Demis Cavina che ha fatto il punto anche sui giocatori infortunati della squadra bianconera coach entriamo subito a gammatesa un po' sull'argomento che tiene anche un po' col fiato sospeso i tifosi in vista della partita di Mantua capitolo infortuni perché andiamo in ornia partiamo da Simpson che ha saltato la partita di domenica scorsa come sta se si sta allenando ed eventualmente sarà a disposizione contro Mantua dunque Simpson chiarisco non è stato tenuto fuori per precauzione ma non poteva giocare non avendo mai disputato neanche una parte di allenamento la scorsa settimana quindi i giocatori infortunati non possono giocare vero è che come diceva Max il fatto di averlo preservato quindi di avergli dato il giusto tempo di recupero ha accelerato notevolmente il suo percorso di di reintegro ieri ha corso oggi ha fatto una parte di allenamento con la squadra sono ottimista nonostante il dolore sia continuo ma non rischiando nessun tipo di ricaduta per quel tipo di fastidio che ha avuto direi che è sulla via del recupero aveva avuto una situazione analoga a novembre e aveva aveva lottato due settimane con questo tipo di problema e quindi insomma stiamo vedendo un attimo di non ripetere o quantomeno di allieviare Powell invece? Powell stiamo aspettando l'esito ha fatto risonanza la scorsa settimana stiamo aspettando l'esito oggi ha fatto un'ulteriore visita da un chirurgo stiamo aspettando gli esiti e ovviamente è la situazione che un po' ci sta facendo pensare anche con gestione tenendo un po' con perché esatto comunque non è facile ecco di facile risoluzione Penna un grande sospiro di sollievo perché subito sembrava un'importante al ginocchio in partita l'abbiamo visto anche negli highlights ha una semplice una grandissima botta che se un comune mortale prende una botta del genere ci lascia gamba invece con il suo fisico diciamo ha retto abbastanza bene anche lui ha fatto parte all'allenamento sono fiducioso per domenica cortese vedremo domani perché ancora fermo è una recidiva sulla spalla che aveva già avuto dove aveva già avuto problemi in estate e vedremo domani o comunque vicino al mese di domenica ed ora uno sguardo a ciò che accade in Italia e nel mondo partiamo dall'esito del vertice di maggioranza che si è tenuto nella mattinata a Roma sul maxidecreto contenente le norme sul reddito di cittadinanza e quota 100 che nel pomeriggio approderà in consiglio dei ministri a Palazzo Chigi si sono riuniti il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio per discutere i temi che vanno dagli statali al TFR agli invalidi il testo è pronto i nodi sono stati risolti ha detto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigonna il vertice di maggioranza è durato circa un'ora durante la quale si è discusso proprio sul decreto e sulle misure per il reddito e quota 100 ok all'anticipo del TFR e alle coperture il testo è pronto ha detto il premier Conte tutto bene tutto in ordine tutti i nodi sono stati risolti appuntamento dunque all'ora e 18 per la seduta del Consiglio dei Ministri andiamo ora invece in Valle d'Aosta sono una quarantina i migranti fermati nella notte al traforo del Monte Bianco tra di loro ci sono anche alcuni ragazzi minorenni erano diretti in Francia a bordo di tre veicoli un furgone e due monovolume che viaggiavano assieme la polizia ha lavoro per identificare tutti i migranti e capire se si tratta di regolari o di irregolari nel secondo caso gli autisti sarebbero arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in base alle prime informazioni raccolte le persone sono in maggioranza di origine asiatica provenienti verosimilmente da Iraq e Pakistan i tre veicoli hanno targa spagnola italiana ed inglese chiudiamo con il Papa spostarsi e stabilirsi altrove con la speranza di trovare una vita migliore per se stessi e le loro famiglie questo è il desiderio profondo che ha mosso milioni di migranti nel corso dei secoli ha dichiarato il Papa nella prefazione di luci sulle strade della speranza raccolta dei suoi insegnamenti sui migranti rifugiati e tratta di esodi drammatici dei rifugiati ha detto il pontefice sono un'esperienza che Gesù Cristo stesso provò assieme ai suoi genitori all'inizio della propria vita terrena quando dovettero fuggire in Egitto per salvarsi dalla furia omicida di Erode i movimenti umani pur generando sfide e sofferenze stanno arricchendo le nostre comunità le chiese locali e la società di ogni continente ha affermato il Papa ancora nella prefazione del volume e per questo invita la comunità a spendersi in favore dei richiedenti asilo e dei migranti ci fermiamo qui l'informazione tornerà alle ore 15 come detto con l'appuntamento dello sport gli aggiornamenti di cronaca e collegamenti dalla Dacia Arena per congedarci la pillola meta con i previsori dell'Osmer con le previsioni per i prossimi giorni tra oggi pomeriggio e domani mattina che porterà un po' di neve in montagna a quote è tutto sommato interessanti 700 metri circa oggi in calo fino a 300-400 metri nella mattina e nel domani poi nel pomeriggio e domani rapido miglioramento proprio a partire dalla carne quindi già nelle prime ore di pomeriggio ci saranno schierite che arrivano in montagna e per quanto concerne le altre zone piogge oggi i deboli o il più moderato e da sparsi a diffuso in serata domani anche abbondanti specialmente verso est anche su pieno le coste nel pomeriggio miglioramento oggi un po' di libeccio con temperature intorno agli 8-10 gradi su pieno le coste domani entra Bora e che con le precipitazioni un po' più intense potrà portare forse qualche fase di neve anche sulle zone più alte del Carso in particolare Triestino in serata come ha detto miglioramento schierite attenzione il ghiaccio al suolo nelle zone innevate specialmente in montagna non si tratta di precipitazioni particolarmente consistenti però insomma una nevicata anche moderata specialmente sulle giuglie e dovrebbe verificarsi appunto in con questo episodio per quanto concerne il prosiego avremo cielo in genere variabile per il fine settimana senza precipitazioni e con temperature in dieve calo e quindi di nuovo la presenza di possibili gelate di nocchia al mattino anche in pianura probabilmente nella giornata di sabato forse qualche decimo sotto zero anche sulla costa naturalmente vedremo le massime poi rimangono intorno ai 5-7 gradi grazie a tutti